Basta, sincro proprio Ancora? No, te le manno a fare le olimpiadi Le olimpiadi, battilo delle mani No Vabbè, basta Non fai dei geni Che incontro si può essere coglioni Comunque noi siamo in grana, siamo tornati con un nuovo video sul nostro canale E oggi vi racconteremo le nostre migliori sincronie Si? Vi racconteremo gli sbronze PT2 PT2 Prima di tutto vi diciamo di non farlo se siete minorenni Perché comunque l'alcol è una cosa seria No, adesso ripetiamo serio un attimo Non bevete Perché se non potete farlo fatelo in compagnia Ma fatelo responsabilmente Perché è bello bere ma senza esagerare Lo diciamo a tutti i giovani che ci seguono Che non devono prendere un esempio brutto Infatti noi non abbiamo mai esagerato Infatti guardate come siamo Forse è meglio si esagerate Esagerate Cosa hanno raccontato? Quando avevo 16 anni? Sì In realtà è vero Perché è giusto quello Quando avevo 18 anni Quando ero 18 dentro Quando eravamo un po' più giovani E allora praticamente cosa è successo? Una sera siamo andati a San Lorenzo a bere come sempre Come tutte le settimane Come tutti i giorni Tipo così Mi ricordo Non mi ricordo Io sono rimasto fermo Io sono rimasto fermo così Secondo me è passata tipo mezz'ora un'ora Però magari era passati due minuti Quando è così Succede che passa Sembra tanto tempo Ma è passata mezz'ora un'ora Vabbè comunque Sono rimasto là fuori Poi siamo tornati a casa a piedi a casa mia Che da là è un tipo Come abbiamo attraversato la tuscolana Sì Tipo sotto il raccordo siamo passati sotto il ponte È un casino era Poi una volta tornati a casa Lui è sbrattato No a parte prima sbrattato però Ero stato un primo in cucina stavo E sono stato un'ora in cucina con la bottiglia in mano Seduto per terra appoggiato al mobile della cucina Mi ricordo che lui dopo un'ora Lui era passata veramente un'ora E' venuto e mi fa Ma te che qua stai? Da quant'è che stai qua scoppiata a ride? E io che cazzo stavo a fare? Non so stai a giocare qua a Medin Probabile Probabilmente Poi dopo mi ha fatto Mi ha fatto mettere a sbagliare perché stavo male Ho detto Tu devi fare un caffè? Mi ricordo ancora Che lui stava per entrare dalla porta col caffè E io mi ho fatto Levasi da cazzo Poi l'ho spostato E sono andato in bagno a sbrattare Ho sbrattato l'anima Ho sbrattato pure l'anima E poi mi ricordo che lui stava Te che stavi con il giornale Che leggeva mentre sbrattavo Sì sì che io stavo tipo poggiato così sul lavandino E leggevo il Corriere della Sera O il Corriere dello Sport No ragazzetta mi sa No ragazzetta non c'è mentata dentro casa mia No il Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport E lui sbrattava E tipo si è girato verso di me E questo famoso Aiuto Aiuto C'era tipo le lacrime all'occhio E che stava sbrattando le cose Sì in quel momento pensavo di morire Era una delle prime E io mi sono guardato E mi sono rimesso a legge Era una delle prime sbrattate le sange Adesso è routine Cioè quando succede ok Sti cazzo Ormai è abituato No anzi è meglio Perché almeno la mattina dopo ti svegli bene Magari non sulle mani dei propri amici Però è meglio sbrattare Ho bevuto troppo vino quasi Mentre Una è rete E' un po' più avanti Perché io non riuscivo più a trattare E ho fatto Capito? Stavo dentro al parcheggio 100 metri per cento Poi neanche girate davanti tra avanti 20 gradi più in là E non succederà niente Vabbè scialla Tanto da se la vada poi La sbronza Andai niente che ha con faccia Lo siano tanto poi te lavi sti cazzi Vabbè manca anche un'altra cosa Vabbè E' una tipa E in pratica Io stavo con la camicia che era la sua E dove andò allo schiuma party C'è la mia camicia? Ce l'ho lavata Ok Che dove andò allo schiuma party Soltanto che mi hanno detto che allo schiuma party Poi i vestitili devi buttare Quindi ho detto Cazzo la camicia è sua E The Hollister Non mi va di buttare una camicia Tra l'altro non mia Quindi sono andato tipo Ci stanno tipo i coschetti Ste cazzate qua Con Dodo Sto altro amico nostro E perchè pure lui doveva cambiare la maglietta E ci siamo notati questa maglietta Siamo tornati al bar dove stavamo Dead No fermate Mo se la famo tutti Se la famo tutti E dimo che il tuo addio al celibato E da lì è partita la serata fake Così abbiamo chiamato Perchè Tutti ci fermavano Dicevano ma chi è che se sposa? Io mi sposavo il 25 Io per tutti ero fidanzato da 7 anni E il 25 luglio mi sarei sposato E ogni persona mi faceva le condoglianze Cioè era qualcosa di Game over Era proprio game over Era qualcosa di fantastico E tra l'altro Dodo Quando stavamo in discoteca all'altro mondo E' andato dal DJ Il DJ ha staccato le luci Ha staccato la musica E ha cominciato ad urlare Mateusz ma che cazzo fai? Oggi ti faremo cambiare idea Un urlo per Mateusz A tutta la discoteca Che sembra stato di applaudirla Sarà qualcosa di fantastico Quindi Vabbè ragazzi Questi sono i diciottesimi Allora Il giorno dopo del mio diciottesimo C'è stato il diciottesimo Tra la mia compagna di classe Si E praticamente Non vi racconto il mio diciottesimo Perchè non ce lo ricordiamo No Io ho fatto un po' Io ho fatto un po' di danni Il mio diciottesimo era open bar E dopo Allora abbiamo scoperto C'era questo diciottesimo Dove a una certa abbiamo scoperto Che il vino era gratis E quindi Stavamo iniziando a chiedere a quelli Debbiamo andare sempre il vino 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 E alla certa abbiamo visto la mamma di questa amica nostra Che è andata dal barista E ha detto basta vino Perchè stava andando male la cosa Quindi l'abbiamo fatto vendere altre persone lì Si abbiamo fatto vendere altre persone E abbiamo continuato Dopo ha detto basta vino per tutta la sala E noi siamo andati dallo spacciatore No No Basta vino per tutta la sala Lì a fin da mangiare il danno era fatto Perchè praticamente noi siamo Io mi sono ritrovato a ballare Aiseujipeku Che andava di moda Ah si è vero E io non ballo mai No lui balla solo quando beve E questa è vero E poi mi sono ritrovato a ballare Aiseujipeku Con un'altra persona che non ricordo Io non mi ricordo che cazzo c'era quel compagnolo Mi ricordo che stavo talmente male Che io a una certa ho rotto un bicchiere E mi sono fatti i cazzi miei Cioè mi aveva rotto un bicchiere Eeeh Tutti mi hanno visto Tutti mi hanno visto Poi io sono andato tranquillamente Da sta mamma dell'amica mia A parlacce E io ho detto Mazza bella festa complimenti Intanto avevo rotto un bicchiere E lei se n'era accorta Si no Poi c'altro mi immagino Caffiadella tipo di vino Che questa stavamo davanti al naso Perchè stavamo tutti Poi mi ricordo che il proprietario Di quella cosa dove stava lì Mi voleva ammazzare Perchè a una certa Io ho spudato per terra Mentre lui mi stava passando vicino Ma non me ne so accorto Quindi tipo mi ha detto Lorenzo Cioè l'amico nostro Che mi ha ambruttito pesante quello E io manco me ne so accorto Cioè tu hai spudato per terra Dentro un ristorante No 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 fuori Ah ok Era preoccupante No no Però mentre stavo Spudato per terra Stava passando questo Quindi ho quasi spudato addosso Puh Sto stronzo E poi quello Mi ha guardato strano E mi ha detto Lorenzo che mi stava partito Vai tocca a te Tocca a me Comunque 18 giorni in generale Sì sono abbastanza fatti Infatti se vuoi organizzare Un diciottesimo di Cristo O altro Tutti come voi chiamate Cioè noi saremo le guest star Che verranno a trattenersi da ubriachi Perché L'altro diciottesimo figo è stato Tipo quello Della foto di Instagram Non so se avete visto Una Instagram challenge Se non l'avete vista Andatevi a vedere C'è una foto Col mio amico Che erano ubriachi Era un diciottesimo E abbiamo detto Andiamoci a fare una foto Da bimbi micchia E abbiamo fatto quella foto E eravamo già ubriachi Perché prima di entrare Dato che non sapevamo già Che non c'era alcool L'abbiamo bevuto prima E una Una Vabbè con un plano mio Di 18 anni Che avevo casa libera Che tra l'altro casa Non era tipo una villa Ma un appartamento Quindi io penso che Meno male che mi sono trasferito Perché in quel condominio mio Mi odiavano In quel condominio Mi odiavano In quel condominio Mi odiavano Si esatto Ed è stato veramente Lui ha rotto un bicchiere di cristallo Non è vero Non sono stato io Ma ha rotto un bicchiere di cristallo Ma ti giuro Te lo posso giurare Lo hanno confermato Ma chi te l'ha confermato Tutti quanti Ma no fidati E' una cazzata Quando tu ridi così Purtroppo Lui quando dice Le cazzate C'ha il sorrisino che gli viene Ti giuro Ma non è così Ti posso giurare Te lo giuro su cosa vuoi Su qualsiasi cosa Un bicchiere di cristallo che hai rotto Non sono stato io Tu mi hai rotto un bicchiere di cristallo Ma puttana Ma mi fa cazzare Ma che problemi c'era Dittelo dopo 4 o 5 anni che sono passati A ditte che non sono stato io Chi te l'ha confermato Ma voglio proprio sapere Tutti quanti Magari chi l'ha rotto eh Tutti mi hanno detto Ma tutti chi Tu Raffaele Lorenzo Francesco Alessia Giorgia Ma chi c'è stato Ma hai rotto Io non me lo ricordo proprio Se l'ho rotto non me lo ricordo Però non l'ho rotto Cioè Fidati Io nella coscienza mia sto a posto Perché non l'ho rotto Ok perché non si ricorda di averlo rotto E comunque Si è stata abbastanza devastante E A parte Io non mi ricordo un cazzo di quella serata Ah si è stato bellissimo Il risveglio Che loro tentavano Sono andato a dormire prima Perché stavo bileso No aspetta che risveglio Ma quali risveglio Durante la notte È quello che sto dicendo Cioè Sono andato a dormire bileso Cioè Non ce la facevo più Stavo ancora in giacca e camicia Questi pezzi di merda Siccome è abitudine per loro Fami queste cose Allora mi hanno incollato Tipo la scopa Alle mie mani Se lo mette la pentola in testa E poi fai Bobbobbo Ma se poteva far niente Non potevo vam Jet Non poteva fare niente Non poteva niente Però io non mi svegliavo Cioè io non mi svegliavo Mi mentevano tipo il telefono accanto Allora ad una certa abbiamo deciso di buttargli la torta addosso Infatti c'è sta una foto su facebook suo sul mio vecchio facebook quindi col cazzo che la vedete ah quindi la vedete di lui con la torta spiacicata qua con la mia bellissima torta la sake la sakea la sakea la sakea che è? la sakea che è? non si sa la sakea che c'avevo tutta la sakea è qua spiattellata in faccia perché col pezzo di meta di Francesco Vita che io dico nome e cognome non insultare su facebook mi ha spiattellato, ci hanno fatto una foto ci sta Francesco che sta di valide così si fa un selfie come con la torta si è stata abbastanza figa ma molto figa comunque le migliori sono le serate passate ubriaco davanti a League of Legends forever alone io non ci riesco a porto ci ho provato un impossibile ma che palle spettacolare non ci capisci in cazzo vai di cristo vabbè e niente dai grazie a tutti speriamo vi sia piaciuto questo video auguri per me 25 tutti gli auguri che tra l'altro ho messo una foto su instagram e create le email su facebook che vedrete durante la mia instagram challenge che probabilmente ci sarà la settimana prossima forse se mi fate palla dove c'è c'ho la foto in gruppo così tutti quanti che mi indicano e c'ho scritto auguri a me il 25 mi sposo ma tutti mi hanno fatto proprio di ma io non mi sposo veramente raga no però guarda una cosa create qualcuno può creare l'evento su facebook con il matrimonio di xenic in vita a tutti i quali si ma io ti dico soltanto che dread è fissato che ora vuole organizzare il matrimonio cioè su youtube vuole fare un matrimonio non so con chi se trova ma vuole fare il matrimonio dread lo facciamo con un cane cialla tanto dai dai facciamolo quindi probabilmente ci sarà un matrimonio posso fare il testimone ok facciamolo ok ragazzi 10.000 like matrimonio più sbronze parte 3 e noi ci becchiamo sempre al prossimo video come sempre dai grazie a tutto bella ciao ciao ciao